La prossima riunione del G20 ad Hamburgo, la lotta alla povertà, la minaccia globale del terrorismo e i cambiamenti climatici. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro, oggi in Vaticano, tra Papa Francesco e il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel. In un comunicato, la Sala Stampa Vaticana riferisce inoltre che nel corso dei cordiali colloqui sono state evocate le buone relazioni e la fruttosa collaborazione che intercorrono tra la Santa Sede e la Germania. Un particolare ricordo poi è stato riservato al già Cancelliere federale Helmut Kohl, scomparso ieri alla sua instancabile opera a favore della riunificazione della Germania e dell'unità dell'Europa.